Abbiamo fatto una buona partita, ma è finito il primo tempo. Sappiamo le difficoltà, anche il Verona questa sera ha dimostrato di essere una grande squadra. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, non abbiamo fatto nulla. Sappiamo perfettamente a cosa andiamo a incontri. E sappiamo che è una partita a sé, quella dei play-off, sono partite diverse. Diciamo che in percentuale siamo 50-50 tutte e due. Sarà una partita molto difficile, perché l'avete visto che stasera sui ribaltamenti di fronte, su certe situazioni, è stata veramente tosta. Però la squadra sta in condizione, ha giocato secondo me una buona partita. Adesso concentriamoci sulla prossima, che è quella determinante. Ci sarà lo stadio adriatico pieno, Pillon, per la gara che si giocherà tra quattro giorni. Il dodicesimo modo in campo sarà all'Adriatico. Mi auguro di sì. Io so che i nostri tifosi ci sono sempre stati vicini e oggi sarò sicuro che domenica più che mai ci saranno al nostro fianco. Noi ce la metteremo tutta. Faccio un'ultima domanda, faccio Pillon, dal punto di vista tecnico. La partita è molto ben interpretata, avete sofferto un po' Matos su Pinto, probabilmente l'ammunizione è arrivata un po' troppo presto. Per il resto ho visto una squadra ben messa in campo, dicevo con il Presidente, una delle migliori prove stagionali. La domanda è come è tornato così bene il Pescara nelle ultime tre settimane rispetto agli ultimi due mesi? Perché abbiamo recuperato giocatori importanti, che prima purtroppo tra anche Brugom ha avuto diversi infortuni. per recuperare la condizione ha dovuto aspettare. Lo stesso Memushai ha avuto dei problemi, Mancuso ha avuto dei problemi che non si allenavano perché avevano dei problemi fisici. Quando tu risenti di questi tre giocatori importanti è chiaro che diventa difficile anche mantenere una condizione. Oggi stiamo bene fisicamente e anche mentalmente, però pensiamo alla prossima che è quella più difficile.